Buonasera, questa sera un pensiero mi ha fatto decidere di analizzare questo pensiero perché cavolo mi era venuto in mente, non lo so proprio, ed è la compassione, la parola compassione, no? Mi è arrivata la parola compassione, ma allora mi sono messo a pensarti, ma che cosa vuol dire compassione? Compassione? Con il cuore? Con l'anima? Oppure compassione di te perché sei un miserabile? Oppure mi fai compassione? Mi fai compassione è una cosa dispregiativa, e ho compassione di te, anche quella è una cosa negativa, l'altro la sente come un'offesa, o compassione di te. Ma allora come si può dire all'altro, come si può comunicare all'altro che la tua compassione arriva dall'anima? Compassione, condividi il suo dolore, compassione, compassione, condividi il suo dolore. E questo mi è venuto in mente perché in effetti come faccio a dirla una frase del genere? Non si può dirla. perché verrebbe sempre fraintesa. Bisogna dirlo con il cuore. o compassione di te. Non si può dire. non si può dire. Si può dire soffro del tuo dolore. Grazie a tutti.